Entro il 30 novembre dovrà essere presentato un nuovo progetto per la bonifica di Bussi. Non passa dunque la linea di Edison per quanto riguarda la cosiddetta discarica dei veleni Tremonti e per Piano d'Orta. I rifiuti sono da rimuovere in toto. Questo è quanto è emerso dal tavolo tecnico che si è svolto ieri al Ministero dell'Ambiente a Roma, la presenza tra gli altri dei rappresentanti della regione, della provincia e del comune di Bussi, dell'Istituto Superiore di Sanità dell'INAIL e dell'ARTA e delle associazioni ambientaliste. Il Ministero, insieme agli altri enti, una volta esaminate le due proposte progettuali che prevedevano la permanenza dei rifiuti in loco con una copertura e altri interventi di decontaminazione, ha di fatto ribaltato la linea proposta dall'azienda. Sia per Bussi che per Piano d'Orta, l'opzione indicata dal tavolo è stata quella della totale rimozione dei rifiuti con il contestuale avvio immediato di interventi di prevenzione come il pompaggio delle acque contaminate e con l'esame di ulteriori interventi sui terreni e sul suolo contaminato. A fine mese, quindi, Edison dovrà presentare i due nuovi progetti che saranno ridiscussi a metà di dicembre quando è prevista una nuova riunione preliminare alla conferenza dei servizi. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'Ambiente Mario Mazzocca ha descritto la totale rimozione dei rifiuti come unica opzione possibile, aggiungendo che natura e consistenza delle situazioni di Bussi vanno necessariamente affrontate da un duplice punto di vista geologico e idrogeologico perché il sito insiste dove transita il più grande e importante acquifero d'Abruzzo. WWF e Lega Ambiente parlano di un buon risultato. Le due associazioni ambientaliste giudicano positivamente anche la proposta di sdoppiare l'azione in due sottoprogetti, rimozione dei rifiuti ed intervento sulla sorgente inquinata. È stata frenata anche quella che avevamo definito una provocazione e ora Edison dovrà fare quello che in dieci anni non ha fatto, commenta soddisfatto Augusto De Santis del Forum abruzzese dell'acqua. Mentre il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ricorda che per piano d'orta il Ministero dell'Ambiente ha esaminato il progetto di sistemazione finale della Edison ed ha richiesto alcune integrazioni tecniche. È stato anche calendarizzato un incontro con la regione per valutare l'ampliamento del perimetro del sito nazionale.